Matteo Salvini a Santa Caterina Valfurva, sabato 20 e domenica 21 agosto in occasione della Coppa del Mondo di Sciderba, in qualità di vicepresidente della Onlus Cancro Primo Aiuto, partner dell'evento, sollecitato dai giornalisti, non ha mancato di intervenire su alcuni temi caldi dell'estate, immigrazione e profughi in primis, contestando vivamente la linea morbida osservata dal governo, dal premier Renzi, ma anche dalla Boldrina e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, concludendo il suo intervento sul ruolo che la Lega riveste per la provincia di Sondrio. L'impegno della Lega per la provincia di Sondrio, Valtellina e Valchiavenna, risale a tanti anni fa e continua oggi più che mai, perché è una delle province che paga di più, è una provincia interamente montana, dimenticata da Roma, dimenticata dallo Stato, dimenticata dal governo. Quello che stiamo facendo è combattere per strade più decenti, per un'energia che costi di meno, per un riscaldamento che costi di meno e perché questa splendida terra che lavora di suo abbia o quantomeno tenga un po' più soldi rispetto a quelli che produce e che manda a Roma sul suo territorio.